Gaetano Monachello, prima esperienza qui all'Atalanta Store, l'abbraccio dei tifosi e la dimostrazione che i tifosi vogliono bene a tutti i giocatori dell'Atalanta, ne sei testimone. Esatto, non mi aspettavo di trovare così tanta gente, che erano così felici di salutare una persona che magari ha giocato meno rispetto agli altri, però sicuramente hanno apprezzato quello che sto seminando con l'Atalanta 21, che semino l'allenamento dopo allenamento, quindi sono molto contento, ma già sapevo di questa tifoseria che era molto calorosa nei riguardi dei giocatori e molto protettiva. Infatti apprezzo molto questa cosa e sono davvero felice di far parte di questa grande famiglia. Grande famiglia che ha tanti bambini che stanno crescendo e che saranno gli Atalantini del futuro. Io ricordo delle parole di tanti tifosi che mi dicevano che questa è la maglia di mio padre, la maglia di mio nonno e la verità, perché vedo tanti bambini che ci nascono con la fede Atalantina, perché come ha detto prima la signora che aveva il bambino in braccio, il nonno era Atalantino, quindi anche tu e lui il bambino ha risposto che anche io sono Atalantino, quindi è una fede che va da nipote, da nipote, da nipote, da nipote. Gaetano, settimana di preparazione alla partita contro la Roma, contro il Torino è andata come è andata, anche la Roma è un avversario di quelli ostici. Vedendo poi anche cosa è successo in settimana in Coppa Italia sicuramente vorranno riscattarsi. Sicuramente vorranno riscattarsi perché hanno preso una brutta sconvitta, però il Barcellona è una squadra pazzesca, però diciamo che è un'altra partita tosta, per noi tutte le partite sono toste fino a quando non arriviamo ai 40 punti perché ci servono per salvarci e diciamo che affronteremo questa partita come le altre, ma sicuramente sappiamo che la Roma è molto forte rispetto alle altre, è molto più forte.